Ciao a tutti da Dr. Loomis, in questo video faremo un breve unboxing su un'uscita Midnight Classic avvenuta lo scorso ottobre, ovvero Halloween di John Carpenter. Trattasi del primo capitolo, girato nel 1978, qui riproposto in un'edizione a tre dischi. Il primo Blu-ray è riservato all'edizione, alla versione Ultra HD 4K, mentre il secondo disco è la versione Extended, ovvero la versione televisiva con alcuni minuti in più, quindi inedita in Italia, mentre il terzo disco è riservato alla versione cinematografica. Il Media Book si presenta elegante e robusto come al solito. Qui sulla sinistra abbiamo appunto la versione 4K, audio sia italiano che inglese, in DTS 5.1, mentre qui abbiamo invece appunto gli altri due Blu-ray, verso la versione theatrical e la versione Extended in Blu-ray. e qui abbiamo il consueto booklet di una ventina di pagine, 18-20 pagine, tutte in lingua italiana, con diverse foto. Vediamo una breve occhiata. È stata pubblicata un paio di mesi e dopo anche il cofanetto con tutti gli otto film della saga originale, che faremo una breve recensione anche di quello in futuro. Il box comprende solo la versione theatrical, quindi non ci sarà né l'extended né il 4K, che è presente solo su questa edizione. e poi abbiamo anche la cartolina con la locandina classica. Dragon's Gate. Mentre ora diamo uno sguardo agli extra presenti in questa edizione, che in realtà non sono molti, forse è il lato negativo di questa edizione, gli extra sono a quanto scarni, ovvero comprende in pratica il commento audio del regista Carpenter con l'attrice Jamie Lee Curtis, con il sottotitolo italiano, molto piacevole da ascoltare. Poi abbiamo, l'unico extra rilevante è il masterclass di John Carpenter, ovvero un'occasione della premiazione della Caros d'Orro di circa 70 minuti. Anche se, devo essere sincero, dopo 30 minuti mi ero anche un po' stancato a seguirlo, anche per via delle domande poco interessanti. Tanto sta che anche lo stesso Carpenter era un po' annoiato. Un making off invece molto interessante, di circa 90 minuti, è presente invece nell'edizione italiana della Dall'Angelo, l'edizione a due dischi, che consiglio a tutti di tenere ben stretta perché appunto l'avesse già acquistata in passato. Bene, questo breve unboxing termina qui, ringrazio a tutti di averci seguito e al prossimo video. Ciao!